Finalmente i grandi ristoranti avranno la più bella agenda mai fatta. Devo dire che sono molto fiero di averla fatta. È costata tantissimo impegno, tantissimo lavoro anche ai miei collaboratori. È piena di fotografie, ci sono gli spazi giusti che abbiamo studiato perché sia comodo per il restauratore. Ci sono delle foto fantastiche, solamente voglio di ordinare del buon vino, in questo caso è vino Moretti, contà di Castaldi, bella vista, guardate dei bicchieri. È un'allegria, è una freschezza, è primavera, è primavera anche ad autunno, è primavera anche d'inverno. Quindi è un'agenda completa che racconta di vino, racconta di cibo, racconta tutte le varie possibilità. Quindi fortunati che ce l'ha. Bella così non può portare che tanta fortuna. Bella così non può portare. Bella così non può portare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.